amen alleluia quindi vogliamo fare un applauso ancora a gesù forte questo applauso e quindi vogliamo iniziare subito il culto di oggi il messaggio di oggi che lo porterà la pastora francesca li facciamo un applauso la incoraggiamo vogliamo salutare coloro che per vari motivi sono a casa a volte anche per questo tempo che insomma non è tanto felice abbiamo un'allerta qua non si capisce più niente tra i colori che ci dà conte i colori che ci dà la protezione civile per le allerte meteo siamo in zona rossa per lo stato italiano è in zona arancione come allerta medio non lo so va bene comunque preghiamo anche per chi è rimasto a casa per vari motivi ma che sappiamo che spiritualmente con noi e ci sta seguendo c'è un applauso alla pastora francesca buongiorno a tutti e buona domenica salire qua sopra è sempre un'emozione un'emozione buono lo so non la riesco neanche a descrivere oggi io sarò come tutte le altre volte breve però perché voglio dare spazio dopo alla preghiera capirete il motivo oggi parliamo del ringraziamento siamo a fine anno a fine anno si fa un bilancio un bilancio di quello che è stato l'anno che sta terminando e si fanno delle previsioni fra virgolette per quello che verrà quindi oggi ci troviamo a dover ringraziare dio per quello che è stato ma possiamo spegnere si grazie che vola tutto qua vi è mai capitato di dare qualcosa a qualcuno e non ricevere nulla in cambio neanche un grazie che idea vi siete fatti di quella persona come vi siete sentiti sicuramente ci siete rimasti male e magari potreste anche aver pensato che maleducata neanche mi ha detto grazie gli ho dato un gelato ma neanche mi ha ringraziato che maleducata con dio come ci comportiamo noi lo ringraziamo per quello che ci dà lui ci dà tanto ma ogni tanto gli diciamo grazie per lui anche se noi grazie non glielo diciamo non saremo mai maleducati perché la sua grazia è immensa per noi lui ci dà incondizionatamente ma quante volte ci fermiamo come ho detto per ringraziarlo se per dio non risultiamo maleducati allora per lui che cosa significa il ringraziamento cos'è il ringraziamento spesso viviamo come se tutto ci fosse dovuto ogni istante è un dono che lui ci fa ogni secondo di vita che noi abbiamo ogni secondo che respiriamo è un dono che lui ci fa e per questo dobbiamo ringraziarlo ringraziarlo ci dà modo di apprezzare ogni singola cosa che abbiamo a quello che non abbiamo ci pensa a dio quindi ringraziamo dio per quello che abbiamo quello che non abbiamo poi vedremo ci pensa a lui leggiamo il salmo 92 il primo verso ce l'ho qua canto per il giorno del sabato è bello celebrare il signore e cantare le tue lodi o altissimo il ringraziamento è un elemento fondamentale nella vita di ogni credente abbiamo tanti motivi per ringraziare il signore lui ci ha dato tanto in primis ci ha dato suo figlio lo ha mandato a morire sulla croce per noi per la nostra salvezza senza volere nulla in cambio e già questo è un motivo per potergli dare grazie possiamo ringraziare dio per la sua grazia per il suo amore per la cura che ha di noi possiamo ringraziare dio per la sua parola che ci ha lasciato la bibbia per i doni spirituali che ci permettono di servirlo in modo efficace noi credenti dobbiamo sempre avere un motivo per ringraziare gesù per ringraziarlo per ringraziare dio nel nome di gesù come scritto in colossesi qualunque cosa facciate quindi ringraziate in parole opere fate ogni cosa nel nome del signore gesù ringraziando dio padre per mezzo di lui è sempre gesù il tramite per il quale dobbiamo ringraziare dio per le cose che fa nelle nostre vite mostrando un atteggiamento di gratitudine per tutto quello che cristo ha fatto per noi attireremo l'attenzione degli altri verso gesù noi sappiamo che siamo una calamita per gli altri quando noi siamo di testimonianza soprattutto con il ringraziamento a dio per quello che ha fatto se noi ringraziamo dio per la nostra vita per cose che fa per noi davanti a chi non crede sarà un seme che noi mettiamo in quelle vite quindi sarà quel seme che piano piano germoglia affinché possiamo attirare altre persone a dio efessini 5 ma non si legge bene parlandovi con salmi inni e cantici spirituali cantando e salmeggiando con il vostro cuore al signore ringraziando continuamente per ogni cosa dio padre nel nome del signore nostro gesù cristo cosa è il ringraziamento il ringraziamento insieme alla lode e all'adorazione devono far parte dello stile di vita del cristiano del dello stile di vita all'al che vi abbiamo sempre spiegato del cristiano quindi lode ringraziamento e adorazione devono far parte della vita di un cristiano sono il linguaggio con cui esprimiamo la gioia interiore l'amore rivolti al signore ringraziando il signore adorandolo lodandolo noi gli stiamo dando tutto quello che abbiamo dentro e lui quando vede che ringraziamo l'odiamo adoriamo ci riverserà tutte le sue promesse ci darà quello che lui ci ha promesso possiamo possiamo essere come ho detto di incoraggiamento agli altri ma anche di edificazione per noi stessi lodando il signore il signore ci edifichi ci edifica ci da quello che ci serve in questi versi come abbiamo letto no rileggiamo un attimo efessini 5 19 sì ok no quello di prima cos'era metti colossi sì sì no vai avanti vai avanti ok ringraziando continuamente per ogni cosa dio padre continuamente cioè sempre sempre in ogni momento cioè per tutto per ogni cosa per tutto quindi questo per tutto sono sia le cose belle che le cose brutte dobbiamo ringraziare dio per tutto quello che di bello ci dà ma l'apposolo paolo in questi versi ci invita anche a ringraziare dio per ciò che non abbiamo ancora ricevuto e per le quali siamo in affanno o in preoccupazione in pensiero il signore ci ha promesso delle cose ma perché non li abbiamo perché lui sa quando deve darcele quindi noi cominciamo a ringraziarlo per quello che già ci ha dato per quello che non ci ha dato arriverà il momento in cui ce li darà come sappiamo l'esempio nelle nostre vite l'esempio da cui prendere spunto è Gesù ci sono due episodi che io ho preso la Bibbia è piena di episodi in cui Gesù ringrazia il padre è piena di episodi in cui tanti personaggi ringraziano il padre per quello che fa io ne ho presi solo due ma ce ne sono un'infinità leggiamo il primo che si trova in Giovanni 11 dal 38 al 45 Gesù disse togliete la pietra Marta la sorella del morto gli disse signore egli puzza già perché siamo al quarto giorno Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio tolsero dunque la pietra Gesù alzati gli occhi al cielo disse padre ti ringrazio perché mi hai esaudito io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato detto questo gridò ad alta voce Lazzaro vieni fuori il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto credettero in lui questo è il primo dei due passaggi che ho preso e Gesù ci mostra quanto sia importante avere fede e ringraziare Dio per qualcosa che ancora deve avvenire come ho detto prima ringraziamo perché quello che chiediamo prima o poi è già nei cieli quindi ringraziando noi apriamo i cieli e il Signore ce lo dà Gesù certo che Dio lo avrebbe ascoltato ed esaudito ordina di togliere la pietra dal sepolcro nonostante Lazzaro fosse morto già da quattro giorni e quindi sarebbe stato in uno stato di decomposizione dopo quattro giorni il morto comincia a puzzare dopo che la pietra è stata tolta Gesù comincia a ringraziare il padre per quanto sta per accadere lui sa che Dio l'avrebbe già esaudito Gesù lo sapeva Gesù sappiamo che è l'esempio massimo della fede ma la preghiera che fa come abbiamo letto è per far sì che quante più persone possibili credessero in Dio ed infatti dopo la resurrezione di Lazzaro abbiamo letto il verso 45 molte persone credettero in Dio per far sì che qualcosa avvenga e otteniamo qualcosa dobbiamo sempre prima crederlo e poi ringraziare Dio per l'esaudimento prima dobbiamo credere ringraziare Dio per l'esaudimento certi che lui ci esaudisce un altro passaggio che ho preso e anche questo molto noto lo troviamo in Matteo Matteo 15 poi prese i sette pani e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla e tutti mangiarono e furono saziati ed ai pezzi avanzati si raccolsero sette panieri pieni Gesù abbiamo letto e si trova lì sul monte aveva pregato c'era la folla e i discepoli increduli dicono a Gesù cosa dobbiamo dargli da mangiare non c'è niente da potergli dare da mangiare ed è peccato che vadano via senza aver mangiato cosa dobbiamo fare? Gesù cosa gli dice? raccogliete ciò che avete prendete ciò che avete e metteteli qui davanti a me e cosa raccolgono? sette pani e pochi pesci ora sette pani e pochi pesci così sfami 4.000 uomini e a parte le donne e tutti i bambini gli increduli non sanno e non credono che con quel poco si potevano sfamare 4.000 uomini quel poco ha fatto però mangiare tutti facendo avanzare anche sette panieri pieni di roba ma perché? solo perché Gesù prima di distribuirlo credendo che il miracolo sarebbe avvenuto ha ringraziato il padre per ciò che stava per accadere e il miracolo poi è avvenuto quindi abbiamo visto che nell'episodio di Lazzaro Gesù fa l'azione quindi togliete la pietra l'azione è spinta dalla fede la fede è azione lo sappiamo quindi in questi due episodi vediamo la stessa cosa azione azione è spinta dalla fede togliete la pietra raccogliete i panni e i pesci l'azione che poi porta alla preghiera di ringraziamento certi dell'esaudimento quindi la nostra fede spinge a muoverci certi di avere le nostre preghiere esaudite ringraziamo il nostro padre dopo che facciamo la preghiera di ringraziamento fatta con fede mossa dall'azione avviene il miracolo quindi è questo che dobbiamo avere nelle nostre vite azione fede per compiere l'azione quindi come diceva prima il pastore durante l'adorazione Mosè che mette il bastone sulle acque non sapeva cioè per gli altri gli altri lo dicevano cos'è che stai facendo? perché metti quel bastone sulle acque? ma Mosè sapeva già che quel gesto fatto con fede avrebbe avuto il miracolo quindi l'apertura delle acque e quindi è questo lo stile di vita che dobbiamo avere se vogliamo ottenere qualcosa credere con azione credere con fede che il Signore possa fare qualcosa ringraziarlo per quello che già ha fatto solo per poter poi vedere il miracolo leggiamo e quindi il miracolo nei due passaggi che abbiamo visto è Lazzaro risuscitato e quindi la folla che ha creduto e nell'altro episodio la folla sfamata 4.000 uomini tante donne e bambini e i pesci e i panni che sono avanzati in sette ceste leggiamo Filippesi Filippesi 4 il verso credo che quando si parla di ringraziamento il verso di Filippesi che si trova al capitolo 4 il verso 6 è il massimo non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti non solo signore io voglio quello voglio quel lavoro voglio sposarmi voglio un lavoro ma signore grazie perché tu già mi hai dato un marito grazie perché già hai provveduto un lavoro per me grazie perché già mi hai dato un figlio quindi prima di stare lì a supplicare a chiedere ringraziamo Dio per quello che già ha fatto nelle nostre vite molte volte il focalizzarci su qualcosa che non abbiamo ci fa andare in ansia e non ci fa gioire di quello che in realtà già abbiamo quello che in questi casi dobbiamo fare è metterci in preghiera in questo modo così consegniamo a Dio le nostre ansie le nostre preoccupazioni i nostri problemi sapendo che lui se ne occupa e se ne prende carico prima Pietro ce lo conferma gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi quindi i filippesi ci dice non angustiatevi di nulla e collegandoci a Pietro gettate su di lui ogni vostra preoccupazione perché lui se ne prende cura e ci ricolma poi con la sua pace sovrannaturale solo dopo aver fatto questo cominceremo a ringraziarlo anche per quello che ancora non abbiamo quindi riponiamo la nostra fiducia nel Signore riponiamo le nostre preghiere nel Signore lasciamo che il Signore si prenda cura di ogni cosa e vedremo che quello che ancora non abbiamo si realizzerà nelle nostre vite ma bella domanda adesso ci sono dei casi in cui molte volte non riusciamo a ringraziare perché non riusciamo a ringraziare andiamo col Salmo 116 io ti offrirò un sacrificio 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 di lode e invocherò il nome del Signore non è andato in repeat l'ho fatto apposta perché ringraziare molte volte è un sacrificio molte persone non riescono a ringraziare perché il ringraziamento ci porta ad umiliarci quindi ringraziare ci aiuta a tenere a freno il nostro argoglio se non ringraziamo apriamo delle belle porte nelle quali poi il nemico si diverte quindi molte volte dobbiamo abbassare la testa mettere a fuoco la nostra carne e dire grazie grazie Nico grazie Vittoriana grazie in generale grazie Dio molte volte ci risulta difficile ringraziare Dio molte volte abbiamo dei compiti riusciamo nelle nostre imprese portiamo a termine una cosa bellissima bellissima tutti ci applaudono abbiamo successo ma grazie grazie sono stata io grazie invece no il nostro grazie deve andare a Dio grazie a Dio perché mi ha permesso di fare questo molte volte il pastore ci dà degli incarichi wow il pastore mi ha dato questo incarico grazie grazie pastore grazie per questa cosa che mi hai fatto fare no grazie Dio perché mi dai questa opportunità di fare questa cosa grazie Signore perché mi stai dando questa opportunità stop quindi il ringraziamento è un sacrificio risulta difficile metterci da parte e ringraziare Dio per quanto appena fatto l'apostolo Paolo è un esempio di uomo che praticava una preghiera perseverante di ringraziamento a Dio per le sue qualità ed in ogni sua lettera in ogni sua epistola se ci notate all'inizio di ogni sua lettera lui esprimeva il suo ringraziamento a Dio per il popolo che riceveva quella lettera in ogni lettera che Paolo scriveva c'è ringrazio Dio per questo ringrazio per questo ogni lettera quindi il ringraziamento l'apostolo Paolo ci insegna cosa è ci lo insegna benissimo a parte Gesù altri a parte che se vogliamo prendere spunto da preghiere di lode adorazione e ringraziamento basta leggere i salmi ne abbiamo un'infinità e in ogni salmo è espresso un sentimento di ringraziamento di lode di adorazione nonostante in molti salmi si parla anche di sventure di cose che ci accadono negative e lì possiamo imparare quanto sia importante ringraziare il Signore anche negli avversità anche quando tutto ci viene contro altri due esempi e vado alla conclusione due esempi bellissimi li troviamo in prima cronache 29 12 14 qui Davide sta per morire e alla fine dei suoi giorni e fa questa bellissima preghiera di ringraziamento al Signore da te provengono la ricchezza e la gloria tu signoreggi su tutto in tua mano sono la forza e la potenza e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa perciò o Dio nostro noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto questo è un bel esempio di ringraziamento al Signore Davide sappiamo la vita che ha vissuto Davide non ha avuto una vita facile ma alla fine sul letto di morte prima di morire fa questa bellissima preghiera al Signore di ringraziamento e un altro esempio di preghiera di ringraziamento nell'Antico Testamento lo troviamo in Daniele 2 23 quando Daniele riceve la rivelazione del sogno che Nabucodonosor aveva ricevuto lui ringrazia il Signore perché riconosce che è stato merito del Signore o Dio dei miei padri io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato rivelandoci il segreto che il Re vuole conoscere anche qui abbiamo visto che Daniele ringrazia il Signore per qualcosa che il Signore gli ha fatto quindi quando arrivano le risposte che aspettiamo da parte di Dio noi dovremmo essere sempre pronti ad esprimere la nostra gratitudine dandogli gloria ed onore concludendo quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo imparare a dare priorità al ringraziamento a Dio se vogliamo imparare a ringraziare meglio anche gli uomini quando cominceremo a ringraziare bene il Signore ad aprire il nostro cuore al Signore sarà molto più facile per noi ringraziare anche chi non riusciamo a ringraziare carnalmente sulla nostra terra non è importante quanto rendiamo grazie al Signore ma come come lo facciamo abbiamo il cuore aperto e sincero o recitiamo la solita filastrocca Signore grazie perché hai fatto questo grazie no il Signore anche due parole io dico sempre quando qualcuno non riesce anche solo due parole ma dette col cuore non serve quanto ma come la sostanza quando ringraziamo dobbiamo imparare a mettere da parte noi stessi e i nostri bisogni e focalizzarci su Dio sulle sue qualità sulle sue opere rendiamo grazie a Dio in ogni circostanza anche in situazioni difficili grazie Signore perché hai fatto questo grazie Signore perché mi hai dato questo giorno grazie Signore perché nonostante la pioggia tu sei il sole dentro di me e fai splendere le mie giornate ringraziamo sempre Signore per quello che fa per quello che vediamo e quello che non riusciamo ancora a vedere anche in situazioni difficili quest'anno sta terminando adesso il 2020 è stato un anno difficile io quando arriva la fine dell'anno sto sempre un po' perché questo non lo sapevi a te amore perché si arriva a fare un bilancio di quello che è stato l'anno no? quest'anno è stato un anno difficile un anno che ci ha tolto molto ci ha tolto il calore ci ha tolto gli abbracci ci ha tolto i baci ci ha tolto i sorrisi ci ha tolto anche persone care ma nonostante tutto dobbiamo ringraziare il Signore perché è stato un anno in cui credo abbiamo avuto più possibilità di entrare in intimità con Lui di inginocchiarci sulle ginocchia Lui ci ha voluto mettere la mascherina il nemico ci ha voluto mettere la mascherina ci ha voluto privare di ogni cosa che ci dava pace tranquillità serenità ma noi sulle nostre ginocchia abbiamo sconfitto questa cosa nel nome di Gesù sappiamo che già è sconfitto nonostante in televisione ci dicono zona rossa zona arancione c'è la mutazione c'è un nuovo virus più aggressivo che si contagia più facilmente ma se noi abbiamo il Signore abbiamo tutto quindi nessun male ci colpirà nel 2021 uniti inginocchiati alla presenza del Signore sulle nostre ginocchia sconfiggeremo tutto ogni cosa quindi io credo che adesso mi metti un po' di base ah ok va bene scusa io credo che adesso leggiamo il Salmo 100 dobbiamo entrare nelle sue porte con ringraziamento nei suoi cortili con lode dobbiamo celebrarlo e benedire il suo nome adesso io credo che ognuno di noi ci dobbiamo mettere in preghiera entrare alla presenza del Signore e ringraziare per quello che è stato e ringraziarlo per quello che verrà per quello che sarà perché sappiamo che se viene da Dio è sempre qualcosa di buono quindi adesso vorrei che preghiamo ci alziamo in piedi cominciamo ad entrare nella presenza del Signore e a ringraziarlo per quello come ho detto per tutto quello che è stato e per quello che sarà Amen Dio vi benedica grazie a tutti